Ogni imprenditore dentro che lo muove deve avere un sogno, perché il sogno influenza completamente tutta la nostra visione, il sogno influenza i nostri pensieri e come diceva Sant'Agostino curati dei tuoi pensieri perché diventeranno le tue parole, curati dei tuoi pensieri perché diventeranno le tue parole, curati delle tue parole perché diventeranno le tue azioni, curati delle tue azioni perché creeranno le tue abitudini, cura le tue abitudini perché diventerà il tuo carattere, cura il tuo carattere perché diventerà il tuo destino. Se penso a noi già vedo una casa redatta. Io con te, tu con me e poi, da cosa nasce casa? Nuova Redo, da cosa nasce casa? Nuova Redo, da cosa nasce casa? Nuova Redo, da cosa nasce casa?